Dopo aver registrato il profilo di un collaboratore e averlo assegnato ad una collocazione all'interno della vostra azienda, il sistema crea in automatico un organigramma aziendale dinamico. L'organigramma può essere il consultato sia per reale configurazione, dove quindi ogni collaboratore è visibile associato al proprio ruolo e alla propria posizione all'interno della vostra gerarchia aziendale, sia direttamente per ruolo. In questo secondo caso è anche possibile direttamente confrontare per ciascun ruolo aziendale i posti disponibili con quelli dei collaboratori effettivamente assegnati adesso. In questo modo avrete a disposizione uno strumento che vi permette di capire in modo semplice e veloce quali ricerche è necessario aprire internamente o esternamente alla vostra realtà aziendale.